ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e in questo video vi porto un po di news no come sapete tutti un notiziario insomma se non ha le news che cazzo di notiziario no scherzo ragazzi ho introdotto il video così stavo in vena di cazzeggio e l'ho fatto allora che dirvi ragazzi allora per quanto riguarda gta non sto portando glitch come avete visto sono rientrato qualche giorno fa sul canale però non sto portando glitch perché effettivamente ci sono i soliti glitch almeno mi sembra c'è il glitch delle birre c'è il glitch del cannone orbitale che dovete chiudere o diciamo terminare la rete o chiudere l'applicazione o terminare la rete oppure c'è quello delle auto di strada che sono tutti funzionanti come glitch li hanno portati riportati quindi non so se portarveli o meno però comunque sia i glitch ve li riporterò invece per quanto riguarda i glitch degli outfit mi sembra che sono funzionanti quindi penso di portare qualche completo al più presto e riguardo i glitch dei soldi se ne usciranno nuovi questo martedì comunque porterò qualche glitch perché ho detto che sarei avrei ripreso le attività sul canale anche se comunque stiamo continuando a a fare cose noi come ho già detto nei social il 13 ottobre diciamo si chiudono diciamo le registrazioni video insomma anche perché questi giorni molto molto impossibilitati perché la pioggia poi lo sapete pure voi insomma siamo un po così però speriamo speriamo che prima del cioè che per il 13 la data che ci eravamo comunque stabiliti noi io e andre speriamo che porteremo a termine questa cosa come ho già detto ragazzi sui social diciamo non è che stiamo portando avanti una campagna stiamo promuovendo comunque diciamo sì stiamo spoilerando qualcosa di tanto in tanto per quanto riguarda quello che sarà il video io ho spoilerato qualcosa su youtube su facebook su instagram qualcosina così e i più attenti che sono andati nella community di youtube hanno comunque notato un qualcosa cioè questo ragazzi allora quello che si vede nella foto è andre ovviamente l'altro sono io però la mia la mia faccia è oscurata da questo logo quindi se volete saperne di più riguardo a tutto il resto vi basterà comunque seguirmi nei social andate dove cazzo vi pare a voi non lo so qualunque social c'avete non è che dovete stare lì per forza su facebook o per forza su instagram dossate state basta che comunque seguite ogni tanto qualche spoiler ci lasciate qualche mi piace attendete anche questa questa uscita insomma di questo video è una cosa simpatica ragazzi che mi sto divertendo molto a fare quindi sono abbastanza entusiasta questa cosa mi piace comunque tornando al canale sto cercando di portare qualche format diverso ma adesso vediamo pure con l'uscita di red dead redemption penso di prenderlo al 100,1 per cento e quindi comunque porterò red dead redemption sia diciamo campagna che online quando uscirà l'online se ci saranno i glitch comunque sia continuerò anche a portare gta e cercare di portare qualcosa di nuovo di diverso non mi chiedete fortnite perché non ve lo porterò mai fortnite perché non mi piace come gioco e però sto cercando di inventarmi qualcosa ragazzi anche per movimentare un po più il canale perché come state vedendo gta non è che sta un po a morire però la rockstar se sbrigata rilascia tutti gli aggiornamenti in quanto imminente l'uscita di di red dead redemption insomma e poi ecco che ci sarà ci sarà l'aggiornamento di halloween però secondo me non lo so se il gioco avrà questo botto come si presume penso che ci sarà da giocare ragazzi detto questo non ho nient'altro da aggiungere un saluto al prossimo video ciao 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 ciao